Oltre 6 miliardi di litri d'acqua potabile persa a due anni dal sequestro da parte della procura della Repubblica di Teramo della rete di captazione dell'acqua che corre sotto il Gran Sasso e sotto i laboratori di fisica nucleare. Il forum dell'Acqua Abruzzo e l'associazione Martello del Fucino scrivono una lettera aperta alla procura del capoluogo aprutino tracciando un bilancio amaro di questi anni e ricordando i 100 litri al secondo di acqua potabile che vengono mandati a scarico dal 29 settembre del 2018 giorno in cui sono stati apposti sigili evitato l'uso di quell'acqua. Un sequestro scrivono le associazioni ambientaliste che è apparso loro singolare già dai primi istanti perché spiegano venne posto metaforicamente sotto chiave il patrimonio idrico sottoposto al rischio ma non la fonte da cui traeva origine il problema. Il 29 settembre 2018 continuano gli ambientalisti ci unimmo in cauti all'applauso dell'azione della procura oggi ammettiamo scrivono nella lettera che il nostro fumero opportunismo di sopravvivenza. Le associazioni imputano alla procura di Terramo una strategia impropria nei confronti dei laboratori di fisica nucleare perché si spiega nella missiva le questioni di opportunità nonché lo svolgimento di riunioni più o meno formali con amministratori pubblici esulino dalla radice del grave compito dell'esercizio della giustizia. Nella lettera poi si ricordano tutti i passaggi della vicenda e gli atti portati avanti dalle associazioni fino ad arrivare alla mancata messa in sicurezza delle gallerie autostradali che passano sopra i laboratori e alla nomina del commissario straordinario. In conclusione le associazioni chiedono alla procura di Terramo un ripensamento della sua strategia nei confronti degli enti coinvolti della vicenda acquifero del Gran Sasso e si preparano ad una manifestazione di piazza sabato prossimo a Terramo quando in piazza Martire alle ore 16 si terrà un flash mob per reclamare la necessità di restituire alla fruizione dei cittadini abruzzesi e Terramani i 100 litri d'acqua che ogni secondo vengono scaricati e tolti ai rubinetti.